Un attimo, ok. Parla un secondo, Francesco. Ciao. Che dici? Ok. Va bene. Allora, quello che avevamo detto l'altra volta è che avremmo riscritto il programma che abbiamo scritto in Ruby questa volta, è vero? Ah, magari, sì, fichissimo. Allora, quando è mezzogiorno e mezza vorrei passare all'altra parte della lezione, cioè a parlare di quello che dovevate ascoltare, degli Etudes di Sheffer, va bene? Ok. Benissimo. Però, professore, mi scusi, ma Ruby, avevamo detto che, cioè, io avevo capito che avremmo fatto un'altra lezione su Python e poi saremmo passati a Ruby, però se vuoi lo scarico subito perché non l'ho scaricato. No, va bene. Per me va bene. Facciamo un'altra lezione su Python e poi... E anche per me andrebbe meglio, neanche io l'ho scaricato. Ok, allora vi devo... Allora, tanto per... Perché altro avevamo detto che come compito finivamo, no, la cosa sulla classe di condizionatore. È vero. Quindi va bene. Ruby lo comincia... riscriveremo tutto in Ruby la prossima volta. Vi dovete scaricare Ruby e dovete avere sia l'interprete Ruby, che si chiama Ruby, appunto, che l'interprete interattivo. Di solito, quando vi scaricate il pacchetto, vengono tutte e due, ma verificate, che avete un affare che si chiama IRB, che è IRB, che è l'interprete Ruby online. Come Python. Se voi scrivete Python, parte l'interprete online. Ruby non è così. Ruby parte l'interprete e si aspetta un file. Per avere l'interprete interattivo dovete chiamare IRB, ok? Verificate che vi funzionino tutte e due per la prossima volta. Ma la differenza qual è? C'è uno che fa rispetto all'altro. Ruby legge solo codice Ruby e non è possibile interagire, non è interattivo. Ok? Invece IRB è interattivo. Ok, quindi per la prossima volta scaricare Ruby e IRB. Beh, quando scaricate Ruby di solito vi si scarica pure IRB. E allora, il controllare ci sia IRB. È Ruby Lang, no? Il mio amico di programmatori. Sì, sì. Vabbè, lasciate perdere la pubblicità. Ok. Allora. Mi dà 30 giorni di prova gratuite. Ma secondo me non è quel francese. È libero, è software libero. Io non faccio di queste cose. Non date la vostra carta di credito in giro. Va bene. Chi guida? Se volete io inizio, ma... Vai. Io perché l'avevo fatto anche l'altra volta. Beh, come volete. Se volete che faccia qualcun altro, fatelo. Vabbè, allora io inizio. Ok. Dove sta? Ok. Share screen. Vuoi una certa di do al cambio? Volentieri. Ok. Sì, non vorrei andare troppo, troppo... Alle 12 e mezza voglio cambiare cosa. Ok. Allora, vi ricordate tutto? Qua c'avevamo la classe nota, che ha tutta la definizione di come è fatta una nota, ed è in grado di stamparsi. Sì, e poi c'è una classe che è il condizionatore di note. Deve scrivere lo scorro, no? Che serve, sì, per scrivere... Per, diciamo... Il condizionatore di note, se mi ricordo bene, ha tutta una... Una serie di note costruite in un certo modo, e poi è in grado di stamparle. Se vuole spiego, al volo gli ultimi due condizioni agli ampi e le frecche che ho fatto, poi gli altri in realtà sono come quelle che avevamo fatto a lezione. Al volissimo, condizioni agli at, avevamo detto che trova il minimo dell'attack time, e poi lo soltrae a tutti. Quindi, automaticamente, tutti vengono shiftati, e niente, il primo viene a coincidere con lo zero. Ricordiamoci com'era la cosa, per riassumere. Il punto è che noi partiamo da dati che non hanno nulla a che vedere con le note, no? Sono dati che tu hai tirato fuori, non so da dove, da Nasdaq... Sì, da Tesla, no? Sì, sì, da un indice economico, insomma, sì. E quindi li vogliamo riconvertire, vogliamo farli diventare delle note, ma naturalmente i numeri che abbiamo non sono... Abbiamo deciso di mappare... Questa è una possibile cosa che si può fare, ma certamente non è la sola, di mappare le colonne con dei campi di C-sound, no? E però, naturalmente, abbiamo dei numeri che sono totalmente inadeguati. Vi ricordate tutto questo, vero? Sono totalmente inadeguati. Cioè, per esempio, appunto, le action time non partono da subito, per cui uno, se compilasse con le action time, sta lì a aspettare che succeda qualcosa. Inoltre, appunto, le action time potrebbero anche, potremmo volerli comprimere nel tempo, fare altre cose. Quindi, ok, quindi avevamo detto condizioniamo le action time. Prima, ok, vai avanti Francesco, scusami. Sì, 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 insomma, qua trova il minimo, lo so, tre, tutti e tutti gli attack time vengono scettati, appunto, e il primo di tutti viene a coincidere con lo zero. Dopodiché, condiziona i LUR, di nuovo trova il massimo e il minimo, e crea un fattore di normalizzazione. Questo fattore di normalizzazione viene moltiplicato per tutti i valori delle durate e le durate vengono a stare tra un massimo di 2 e un minimo di 0.05. Infatti, quando trova una durata che è proprio pari a zero, lui aggiunge un min. Dopodiché... Vabbè, questo era quello che non funzionava. Sì, io l'ho riparato così. Va bene, adesso poi lo vediamo. Però chiaramente ci stanno altri migliaia di modi per rielaborarlo, secondo me. Condiziona gli AMP fa praticamente la stessa cosa, però alla fine, dopo aver normalizzato e aver fatto entrare tutto tra 0.05 e 1, applica semplicemente una funzione coseno all'ampiezza che si è ottenuta e di conseguenza viene un po' ulteriormente elaborata. Poi quello che esce non è effettivamente rappresentativo di niente alla fine, perché si perde molto del dato originale quando ne applica una funzione coseno. Avrà detto, vabbè, magari è un... E poteva essere un altro modo ulteriore per avere tutti i dati tra 0 e 1, semplicemente ho pensato, siccome si sta trattando di ampiezza. Quindi, vabbè. Su condizioni delle frequenze invece ho fatto un'altra cosa ancora ed è stato sostanzialmente quantizzare i dati che avevo, perché ho scalato tutto per far stare, non so come dire, il tutto tra 0 e un certo numero. Che mo' però mi rileggo più qual è. Un secondo lo rileggo, eh. Mi pare che lo stai... L'hai fatto diventare temperato, sto sistema. Avevamo tutti quelli belli numeretti che hai fatto diventare tutti note, temperate. Eh sì. Però mi ricordo più come. Eh sì. Se non sbaglio... Ecco, sì, le ho fatti stare tutti tra 0 e 96. E poi ho detto, va bene, vedi qual è il valore più prossimo a cui stai vicino. Quindi facciamo finta che sta vicino a, che ne so, 84.2. Lui gli toglie la parte decimale, lo fa diventare 84, e dopo trova la frequenza che corrisponde all'84esimo tasto del pianoporte. E lo fa per tutte le notte. L'hai tutto temperato. Che peccato. Era così. E niente, invece le table sono semplicemente 1, perché in questa caso abbiamo una table sola, ma si potrebbe fare qualcosa altro. Quindi qualsiasi numero entra, esce sempre 1. Va bene. E quindi? E il manoscritto che cos'è? È una funzione che scrive quello che ho fatto su un txt. Fai vedere? È un metodo in realtà, giusto? Sì. È un metodo di questo classico condizionatore. Eccolo qua. Ok. E lo faccio vedere. Scusa, è che differenza c'è tra C-Sound e... Cioè, tra il metodo C-Sound e il metodo... Perché C-Sound print e basta sulla console. che bisognerebbe fare copia e incolla, è un po' brutto, quindi glielo ho fatto scrivere. Eh beh, glielo potevi far fare al metodo C-Sound. Però vi ho detto che non è un po' brutto, è molto meglio così. Però va bene. Il punto è una cosa, è che il manoscritto glielo potremmo veramente far fare. Invece di scrivere in C-Sound, lo potremmo scrivere in Lillipond. Ah, vero, sì. Perché Lillipond accetta file di testo come input. Infatti, vi vorrei far capire che tutto quello che si dice sui programmi liberi, in realtà, e del fatto che invece, che ne so, programmi occupati come Ableton, Reaper, eccetera, eccetera, sono più belli e più... In realtà, sono meno funzionali, perché una cosa del genere, con quei programmi là non si può fare. Mentre invece, con questi, si può... Cioè, usando file di testo, potete veramente andare molto, molto lontano. E andare molto lontano in maniera libera. Cioè, scegliendo voi quello che va fatto. Comunque, andiamo avanti. Vediamo. Per esempio, stavo pensando... Una volta ho visto un'intervista del professor Lupone, che aveva creato un programma che leggeva un input da un sensore proprio reale, e prendeva questo, appunto, questo sensore che era immerso in acqua, se non sbaglio, e lo tramutava proprio in dati veri e propri, che poi veniva utilizzato in un programma che sintetizzava invece. Ed era fichissimo. Cioè, per esempio, non sarebbe neanche così assurdo provare a farlo con un programma di Python. No. Infatti, è quello che stiamo sostanzialmente facendo. Adesso che i dati vengano da un sensore, o che vengano da un file, voi capite che è lo stesso. Sì, sì. Perché siate in grado di leggere il file. Questo è il punto della questione. Ed è quello che stiamo imparando a fare. Quindi, beh, sono contento che stiate capendo, come si dice in francese, de quel bois je me chauffe. Di che legno mi sto... Se non l'ha capito. Di che legno mi sto scaldando. Cioè, questa comincia a essere roba seria. Comincia, eh. Adesso poi dobbiamo andare avanti. Comunque, ok. Facci vedere quello che succede. Volevo vedere... Ecco qua. Questo è quello che esce fuori. Vabbè, è abbastanza riveditivo. No, aspetta. Io voglio vedere alcune cose. Prima di tutto, è verificato che non ci sono, per esempio, numeri che escono fuori dai limiti? Sì, ho verificato pure che queste siano effettivamente delle note temperate. Cioè, ho cercato su internet, ho visto che queste corrispondono effettivamente al tonico. Ho cercato su internet. Come si fa a vedere che questa è una nota temperata? Questa deve essere una potenza di due, no? Sì, 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 no, intendo che magari non avevo sommato fattori sbagliati, diciamo. Diciamo che vengono tutte note giuste fino alla seconda cipra decimale, poi vabbè, dopo vengono leggermente diverse. Ok, ok. Quello intendo. Per esempio, no, quello che mi interessa di più è, ok, c'è una nota che parta a zero? Sì. Perché così non si vede. Qua. Evidentemente ce n'è un'altra durante lo scrivere. Ah, no, mi scusi. È vero, sono qua, questi sono gli part-time. Ecco, per esempio qua c'è una. Ok, quindi comincia con questa nota qua, ammesso che sia l'unica. Ok. Il P3 invece che valore era? P3 è lo strumento. P3 è la durata. Ah, P3. P3 è la durata. Quindi 1, 2 e 3. Ok, adesso il punto è, la durata, per me c'è un problema, quel codice che ci hai fatto vedere. Però questo più 1 che cos'è? È l'ampiezza. A volte cambia, a volte è 1. No, 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 qua sotto è diverso. Però non è che c'è il rischio di si sapere un po' meno dove... Infatti non vai di nuve la lamp, cioè non ti vanno in istruzione. Certo, infatti... Dipende come scriviamo lo strumento poi. Sì, però diciamo che questo può essere un problema. Io, vabbè. Comunque hai provato a compilarlo? Hai provato a sentire cosa esce fuori? No, non c'è provato a dire la verità. Eh? Non c'è provato a dire la verità. Allora, posso dire alcune cose che... No, questo lo puoi tenere così. Questo va benissimo così. Non c'è bisogno che lo copi, incolli, eccetera, eccetera. Non ti preoccupare. Su Cisound li fai aprire direttamente? Cisound è certo che te lo fa aprire, come score. L'unico problema che ci vuole è che ci manca una tavola all'inizio, vero? Non c'è la tavola. Pronto? La dobbiamo mettere su Cisound. Allora, scusa, facciamo un cambiamento. Beh, la tavola va nello score, però. Ah, intende. Quindi proprio sostituire in tutto e per tutto questo ha lo score. Quindi sì, ci manca la tavola. Questo è lo score, appunto. Ok, ok, ok. Ok, ok. L'inizio della questione. Quello che tu vuoi è che il programma faccia lui sto lavoretto. È inutile che lo stai a fare tu. Quindi adesso cambiamo la funzione manoscritto per aggiungere una tavola all'inizio. Una stupidaggine, si fa facilmente. Ok. Dentro, prima del, prima del, prima di tutto. Allora, io, vabbè, no, questo lo devi fare prima. Ecco, quindi fai file.write, o quello che è, aperte virgolette, e questa la fai secca, la f1, 0, facciamo una sinusoide, 4096, 10, 1, backslash n, fine della questione. Ok? Allora. Non è che tante volte li metti... Questo modo di fare la questione implica che tu debba chiamare, allora, quando tu crei, ah no, no, è giusto così, no, scusami, no, perché stavo pensando, implica che la funzione manoscritto la chiami dopo aver condizionato, ma siccome si condiziona tutto alla creazione, manoscritto scriverà le cose giuste, sempre, anche se lo chiami, non lo puoi chiamare in maniera diversa da come è chiamato. Ok? Direi che a questo punto cambiamo, a Csound gli facciamo creare il file score, no? E a manoscritto, caso mai, li faremo fare la partitura vera e propria, scritta in Lillipond, però, se adesso vi insegno Lillipond, Giulio Sarrabbio, perché è un ennesimo altro linguaggio, e quindi brocca. Ok, adesso, qui scriviamo lo strumento, allora, no, non voglio questo tipo di template, non lo voglio, butta via tutto, e qui scriviamo un file che si chiama orc, quindi questo sarà, non so, tesla.org, quello che ti pare, ok? No, 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 questo è il nome del file, dentro il file c'è scritto questo. E come faccio? Dico open file, eccetera, eccetera? No, lo devi salvare con questo nome. Ah, sì, ok. Salva quel nome, e vedrai che lui ti dice, no, ma io voglio un cssd, eccetera, e tu gli dici, no, me lo salvi come .org e basta, non rompere. Ma che estensione è? Orc. Ah, estensione inventata. Per me il cssd, quando si usano questo tipo di cose qua, cioè che usi un programma per creare lo score, è molto meglio tenerlo separato, l'orc, dallo score. Ok, quindi qua, vabbè, facciamo il solito header, sr uguale 48.044, se volete fare. No, 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 non ci sono questi, non ci sono forchette qua. Questo è secco, 44 e 100, poi scrivi ksmps e mettici, che ne so, 100. Poi, canale 1, nch nls, nch nls, ecco, 1. Poi, ok, scriviamo lo strumento, facciamo lo strumento semplice, instra. Quindi qua non scrivo nemmeno i 0 dbfs. Se vuoi sì, però in questo caso lui ha scritto le ampiezze tra 0 e 1, quindi scrivici 0 dbfs, no, con lo 0 deve cominciare, 1. Ok, vedrai che ci avremo un po' di problemi qua, però proviamoci. Allora, qua ci abbiamo, cosa ci abbiamo come campi? IAMP, IAMP uguale P4? Sì, è la P4. Ok. Perché P3 è la durata e subito dove ci sta l'AMP. Sì, IAMP e P4, beh, i primi tre sono sempre fissi, non si può spostare. P2 uguale P3. Poi, i frecchi uguale P5, no? Ok. I table. I table lo possiamo usare direttamente. Se volete mettere i table è P6. Beh, ce l'hai. Ce l'hai, sì, lo uso. Ok, adesso facciamo un oscillatore semplice. No? Ci cacciamo dentro sti dati. No, sotto, sotto. Sì, 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 infatti non lo so. I tu e chi? Come dici? L'avvertenza, ok, no, niente. Sì. Allora, no, scusami, no, l'oscillatore funziona così. Cioè, prima la variabile d'uscita, out. No, 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 no. Prima di oscillare sta. Sono uscite, opcode, ingressi. Ok. IAMP, i frec, i table. Virgola i frec, virgola i table. Ok. Adesso condizioniamolo leggermente. Cioè, facciamogli un piccolo inviluppo per non sentire proprio i click. E quindi facciamo, vai a capo. E scrivi, a out. No, no, lo facciamo direttamente. Facciamo un inviluppo trapezoidale. Linen. Spazio, zero. No, scusami, qua ci va out. No, no, qua ci va out. No, no, questo lo fa direttamente. Senza. Out, virgola. Adesso qua ci va il tempo d'attacco. Mettiamoci un tempo d'attacco molto corto. 0.005. Però lo vogliamo moltiplicare per... Percentualmente, sì. Percentualmente rispetto al P3. Ora, i P3 sono molto brevi. Alcuni. Quindi, sì, questo facciamo il DUR. Poi facciamo... Cosa ci va qua? No, io farei il contrario. Casomai 0.01. Facciamo un attacco più breve. Ah, vedo. Caduta più lunga. Ok? Poi vi dico perché, se volete sapere. Ma, insomma, lo capite da voi. Dopodiché lo sputtiamo fuori, no? Out, out. Ora però... Non servono gli altri parametri. Solo la caduta, l'attacco e la caduta. E linea, sì. Sì, linea non serve nient'altro. È un trapezoidale normale. Poi dopo... In realtà, è vero. Qua manca uno, in realtà, qua in mezzo. Serve i due. Ok, sì. Non si vede, però vabbè. Ok. Dunque, adesso, il problema è questo, però. Che questa ampiezza qua, vedrete che uscirà fuori. Perché qua, per esempio, ho 10.000 note che stanno tutte a... No? Sì. Quindi potremmo riscalarlo per un fattore. Diciamo che, secondo me, se lo dividiamo per 100, non facciamo sbaglio. Non si può fare quella cosa di balance. Eh, con che cosa lo bilanci? Perché balance deve avere un segnale per compararlo. Ma guarda, facciamolo... Fiamo una roba semplice. Dividiamo il segnale per 100. Ok? Ok? No. Ok, sì. Oppure lo dividi per 100, fa lo stesso. Ok? Questa è una cosa molto brutale. Dopo potremmo fare una cosa più sofisticata. Per esempio, la cosa più sofisticata è nel condizionamento. si sommano le ampiezze che sono contemporanee, che non è banale da capire, quali sono le ampiezze che sono effettivamente contemporanee, e poi si riscala il segnale in modo da non saturare. Va bene. Adesso, ok. Adesso questo è l'Orc. Lo Sco ce l'abbiamo già, quindi dovresti aprirlo. Fai... Da dentro ci sa un cookie. Ma il file orchestra? Eh? Si potrebbe direttamente pure questo scrivere su C-Sound? C'è se su Python? Sì. Se è semplice, sì. Ma guardate che qua stiamo facendo roba proprio super semplice. Se il file orchestra diventa complicato, vi conviene tenerlo separato, no? Anche perché li editate in momenti e in modi diversi. Capite? Cioè, la stessa partitura può suonare completamente diversa a seconda di che orchestra gli date. Adesso poi, in questo caso particolare, abbiamo scelto di usare solo uno strumento. Ma per esempio noi potremmo decidere di cambiare strumento in base alla tipologia di nota. Per esempio, se vediamo che una nota è più lunga di un certo tipo, allora si usa un certo tipo di strumento. Capito? Dal punto di vista dell'algoritmo, qua ci possiamo complicare la vita quanto ci pare. Il problema è sempre tenere d'occhio qual è il risultato musicale che vogliamo ottenere. In questo caso qua ci basta solo che suoni, ma in futuro non sarà così, no? Spero. Spero che vogliamo fare qualcosa di più. Se vogliamo diventare musicisti affermati come gli altri. Affermati. Affermati. Affermati, non so cosa significa, va bene. Puoi aprire sempre dentro C-Sound la partitura? Allora vai su file. Eh, ma... Dai, gliela puoi fare, fai quello che ti dico. Va bene. Dove sta la partitura? La partitura costruita? Qua, ora la porto, la trasporto perché... Ah no, va, un attimo. La puoi. Qua dentro, però non è in questa versione. Ecco. Ok. Cosa dice? Cosa dice? Mi sta chiedendo... Niente, mi sta facendo la lista dei file che ci ho messo dentro. Sì, va bene. Ok. Adesso. Cosa sta dicendo? Syntax error. Unexpected, untyped word, 3-Unexpecting variable. A che riga è? Uno. E si ferma all'inizio proprio. Ah, mi scusi, non l'abbiamo ricompilato, quindi lui non gli manca la table qua. Sì. Lo rieseguo su Python. Sì. Sul, sul terminale. Un attimo. La Python class, class 1, red, madonna. Che schifezza. Qua lo rinomino. È troppo tardi. Ok. Dovrebbe averlo riscritto. Andrei provato, ma hai mentito di riaverlo? Sì. Oppure di rileggerlo. Come si fa di rileggerlo? Non lo so. Non uso questo tipo di... Magia oscura. Ok. Qua ci sta... Ok, allora a lui, a lui questa cosa secondo me non piace perché questo affare, questo è un imbecille di... Scusa, ti dispiace farlo da terminale? No. Perché da terminale dovrebbe... Stanno lì tutti i tuoi file? Tutti in questa cartella, sì. Dir. Ok, quindi noi dobbiamo usare... Dove sta l'ORC? Ah, testa.org. C sound. Spazio meno W maiuscola O. Spazio tesla.wav Questa è l'uscita, no? L'output. Spazio tesla.org Manoscritto.txt Orc senza H Io l'ho doldo. Punto.txt Ok. Va comunque bene il fatto che ci sia manoscritto in txt Aspetta un attimo. Cannot compile orchestra. Cioè il problema è l'orchestra, non tanto... Va bene perché dovrebbe andar bene perlomeno, cioè a meno che non abbiano cambiato qualcosa. I suffissi sono un'invenzione di Windows, cioè in realtà i file non hanno bisogno... Puoi usare qualsiasi suffisso, a meno che non abbiano... Aspetta, c'è un problema nell'orchestra, c'è lasciato... Vedi c'è sintax error. Eh, infatti c'è sintax error. Guarda l'orchestra, guarda l'orchestra. Ligna 2. Alla riga 2. Scusa, ti dispiace risalvarlo un attimo perché... Fatto. Questo va bene, non c'è bisogno che lo salvo. Ah, adesso è andato. Si vede che si era salvato quando avevi messo le forchette. Ok, le ampiezze possiamo dividere per 10 invece che per 100. Vedete, qua vengono tutti suoni molto bassi. Però qua dice che comunque alcuni che si sovrappongono e si stanno, no? Questo vuol dire, giusto? Certo, però l'ampiezza massima è 0,08. Possiamo dividere per 10 e abbiamo 0,08. Ok? Questa è una porcheria, è chiaro che lo dovrebbe fare lui in automatico, di sapere quante sono le sovrapposizioni. Ok, però siccome è più difficile da fare, lo ho. Ok. Buono. A questo punto siamo a buon punto. Se prendi Audacity, guardiamo il file. Adesso riesci a farcelo ascoltare, cioè a mandarcelo nel... Sì, ora vedo se... Ti pare il computer sound. Però l'ho fatto, penso, quando sono entrato. Ora provo a farlo sentire. Ok. Altoparlanti, se io metto questo interiore... Jill e Caridi. Si sente? No. No. Neanche io lo sento. Ma l'hai settato Zoom su Sames System? Io penso di sì. Cerco un computer sound, l'ho ricliccato nel caso in cui si fosse dimenticato. Si sente? Ah, 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 ah. O qualcosa. Hai messo cuffie aricolari, magari... Io con questo sto connesso, perché se no non vi potrei sentire. Cioè, se no non vi potrei parlare, insomma, c'è un microfono, capite? Eh, prova a farlo uscire da un'altra parte, se no. Magari quella, tipo, un microfono, gli hai detto farlo uscire. Eh, però... Aspetta. Quindi cosa gli faccio fa qua? Devi cambiare l'uscita. Fammegli l'out. Di Realtek. Vabbè. Prova. Non penso che si muove a niente. Non è anche in Realtek. Prova l'altro Realtek, invece. Sto pensando che magari si potrebbe riavviare l'Odacity. Lo sento. No, io neanche lo sento. Si potrebbe riavviare l'Odacity perché magari con... No, lui cambiando l'Output dovrebbe sentirsi il volo. C'è un messaggio di errori, l'abbiamo sentito. Ah, ok, ok. Allora aspetta, ora provo un attimo. Qualcosa si è sentito? No, noi non sentiamo nulla. Però aspetta, eh. Tu senti? No, neanche io sento. Ecco, però questo fa lo sentite? Sì. Questo è l'audio del computer, insomma. Sì. Sistema. Perfetto. Allora, boh, non sarei ridì. Niente, no. Invece lo so la chat. Ah, non si può manco più? No, sì, sì. Si li può? In che senso si li può? È da braccio. Nell'ultima settimana non si poteva più aggiungere file, cioè inserire file. Il canto è qua, dice... C'è un po' di reddito. Non c'è. Stavo a mandarlo, no. Magari il problema è salito, cioè... Eh, ma... Mi sa che è grosso sto file. Quanto è grosso? Uno contro... Fai dir... Basta fare dir... Su 32... No, senti, non ce lo mandare. Dobbiamo trovare assolutamente un modo per... Se tu fai un play... Cioè, che roba c'è? Adesso lascia per... Cosa? Ah, sì. Oppure... Sì, farglielo fare in tempo reale a C-Sound. Mo' ci provo. Eh, però... Non so, l'ultima cosa... Non so che farlo. No, ma scusa... Scusi, un player... Il player di Windows... È vero. Eh. Sopri proprio... La gruva musica. La gruva musica. Dov'è, qua d'entro? Quelli sono in delle cartelle, li sentiamo. Come esplode tutto. Io lo sento adesso. Qualcosa. Sì. Sì, sì, lo sento anche io. Vado a tutte le frequenze, tipo... Durano... Tutte note che durano pochissimo. Io ho detto disturbatissimo. Ma non è che è disturbatissimo, è questo il file. È proprio il file. È così. Se guardate la partitura... Apri la partitura mentre stai andando. Qui stiamo a 28 secondi. Basta, 6 minuti di file. Vai, vai avanti, vai avanti. Stiamo a 28 secondi qua. Ah, è che non so... Però queste sono tutte messi a caso, quindi... Ah, è vero. Posso aprire il tasto, così la vediamo, ma... Sì, ok. Ma è fermo adesso? No. No, no, stanno andando. Sono queste parti qua di silenzio. Ok. Però questo è interessante, per esempio. Interessante come cosa. Vedi, parte da frequenze molto basse... E ci rimane. Beh, un pochino sta salendo. Sì, sta succedendo qualcosa. Un minuto e ventitré, quindi starà circa qua. Stanno salendo adesso. Ok. Lo sto sentendo. Qui io sento niente, infatti. Sto pezzo sarà candidato a MTV Music Award. probabilmente la frequenza è l'andamento dei titoli non mi ricordo finché altro l'andamento dei titoli ha vari parametri tipo titolo di entrata titolo di uscita non è sempre visto non so come voglio dire valore di entrata la credita è Grazie a tutti 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 documenti Grazie a tutti 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 metod Passing in Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 in Python Grazie a tutti 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 Grazie a tutti